Tempo di playoff per il Volle Soverato che sta preparando in questa settimana gara 1 dei quarti di finale che si disputa in trasferta contro una formazione ostica come Marignano che si è classificata al quarto posto al termine della regular season al cospetto del settimo posto del Volle Soverato. Una sfida che si annuncia comunque avvincente perché le partite di regular season seppur perse dal Soverato col Marignano sono state comunque lottate ed avvincenti. Certamente siamo contenti di esserci con San Marignano l'andata abbiamo perso 3 a 1 devo dire non benissimo ritorno invece è stato un ottimo match però si sa che poi alcune situazioni soprattutto psicologiche ai playoff possono cambiare. Noi abbiamo lavorato stiamo bene fisicamente abbiamo lavorato duramente perciò siamo pronti per giocare questa partita consapevoli delle difficoltà che ci potrà l'avversario ma anche consapevole dei nostri mezzi che non sono certo pochi. Presentiamo nel dettaglio questa formazione che possiamo dire probabilmente è stata un po' tra virgolette la sorpresa di questo campionato poi si è confermata strada facendo però si è classificata al quarto posto ha vinto la Coppa Italia di Serie A2 guidata dall'ex tecnico del Soverato Saia che proprio l'anno scorso era qui. Quindi una formazione che nel corso del tempo è cresciuta era partita bene è stata anche diverse domeniche in testa indice del fatto che è una squadra che ha avuto una certa costanza di rendimento. Sì certamente soprattutto come abbiamo già detto a mio avviso delle squadre migliori per quanto riguarda i fondamentali di seconda linea cioè ricezione difesa penso che siano delle squadre delle squadre più forti perciò dobbiamo essere molto attenti a gestire bene i colpi d'attacco a avere continuità sul gioco perché loro è una squadra che da molta continuità capito ti fa giocare molto la palla e noi dobbiamo essere pronti ci siamo preparati abbiamo visto il loro gioco e abbiamo visto il grosso passaggio che miglioramento che abbiamo avuto ultimamente in queste fasi e come già detto siamo siamo contenti e fiduciosi di poter fare risultati. Soverato che ha chiuso la regular season con una sconfitta in quel dichieri anche se ha fatto riposare diversi elementi proprio in funzione dei playoff nel tentativo di arrivare al meglio già a questa gara 1 che potrebbe essere importantissima visto che si gioca in trasferta. Sì abbiamo perso una sconfitta in dolore non cambiava molto la classifica avevamo la greca aveva un'infiammazione al ginocchio abbiamo dovuto tenerla ferma però lì devo dire che Chieri ha giocato un'ottima gara devo dire una squadra l'ho vista molto molto in salute perciò ecco quel passato è andato adesso dobbiamo concentrarci su quello che dobbiamo fare domenica su quella partita e questo è quello che bisogna fare. Ovviamente giocando la prima gara in trasferta perché il vantaggio del fattore campo è in favore di Marignano sappiamo quanto importante può essere questa gara 1 però sappiamo anche che il cammino del Soverato in trasferta fa anche tra virgolette ben sperare nel senso che è una squadra che in trasferta ha ottenuto quest'anno risultati importanti. Sì siamo una squadra sotto questo punto di vista regolare non magari nel gioco nei risultati ma nel fatto di avere lo stesso gioco in casa fuori. Quello non abbiamo avuto molto molte diversità ecco tra casa e fuori perciò non è un problema giocare la prima in trasferta poi giocheremo in casa l'eventuale bella la faremo là. Questo lo dice la classifica non possiamo decidere noi ne prendiamo atto però la cosa positiva è che noi abbiamo fatto grandi risultati anche in trasferta. Veronica D'Abborelli il Soverato prepara questa gara 1 di playoff di quarti di finale con Marignano sarà sicuramente una sfida avvincente e difficile però al contempo anche molto stimolante per voi. Sì assolutamente sarà una gara difficile infatti cercheremo di prepararla al meglio anche prendendo spunto da quello di buono che abbiamo fatto in campionato sia all'andata che al ritorno soprattutto al ritorno. cercheremo di fare il meglio fin da subito. Sicuramente arrivate a questi playoff comunque rinfrancati dagli ultimi risultati in campionato eccetto quello dell'ultima giornata anche se lì c'è stato un po' di turnover come si suol dire oltre al fatto che la vittoria poteva incidere poco sul piano della classifica. Adesso però come si suol dire il playoff comincia un altro campionato. Sì cominciamo da zero cercando di resettare tutto riposando il giusto e cercando di recuperare tutte le energie possibili per vincere. Infine iniziano i playoff però si è chiuso il campionato quindi possiamo fare anche un primo bilancio anche sulla tua di stagione. Il coach nell'arco della stagione ha sempre rimarcato l'importanza di avere una panchina importante su cui fare affidamento. Ormai specialmente nel girone di ritorno hai aumentato il tuo minutaggio in campo. Un giudizio anche sulla tua di stagione qui a Soverano. Io sono contentissima dello spazio che mi ha dato il coach, delle occasioni che ho avuto cercando di sfruttarle sempre al meglio. A livello di squadra sono contenta perché nonostante magari gli alti e bassi avuti un po' durante l'anno siamo riusciti a venirne fuori e a mostrare il nostro gioco migliore. Grazie a tutti.